Buongiorno dall'ospedale di Cremona per un nuovo appuntamento con la rubrica il medico risponde protagonista della video intervista di oggi il dottor Fabrizio Vervey direttore dell'unità operativa di urologia. Buongiorno dottor Vervey con lei vorremmo parlare di prostata che cos'è e quali sono le sue funzioni. Buongiorno a tutti, la prostata è un organo che rientra e è incluso nell'apparato genitale maschile e nell'apparato urinario, un organo interno nell'addome la cui funzione sostanzialmente è quella di contribuire alla formazione del liquido seminare e la condivisione con l'apparato urinario deriva dal fatto che viene attraversata dal canale che porta fuori con l'atto della minzione lo svuotamento della vescica, quindi questo da cui derivano i disturbi urinari in condizioni di patologia prostatica. Quali sono le malattie più comuni? Allora è fisiologico che con l'avanzare dell'età la ghiandola subisca un processo di ipertrofia che di per sé non è una malattia, è la normale fisiologica crescita della parte centrale della ghiandola che prende il nome di adenoma, il suffisoma spaventa ma in realtà è la ghiandola benigna che col passare degli anni si ipertrofizza, quindi la patologia diventa quanto questa ipertrofia va a interferire con i meccanismi di svuotamento della vescica perché determina una resistenza allo svuotamento della vescica che come ho detto avviene attraverso la ghiandola. La compressione di questo canale può determinare un rallentamento di quello che è il flusso urinario con diciamo le condizioni sintomatologiche conseguenti. Questa è patologia? No, di per sé no, la ghiandola non è una ghiandola patologica, semplicemente un sviluppo eccessivo rispetto al confronto con le meccaniche di svuotamento vescicale. Poi ci sono una serie di patologie invece intrinseche della prostata, in primis per esempio un'infiammazione che può essere acuta o cronica, quindi tutte le prostatiti che possono essere, che possono verificarsi, in realtà sono diciamo un grosso contenitore in cui coesistono le più svariate sfumature. E in aggiunta anche il tumore della prostata, il cancro della prostata che è argomento sensibile e fortunatamente con una consapevolezza nel pubblico anche crescente sia per il, diciamo, sia per il tipo di approcci terapeutici che può necessitare e sia perché finalmente col passare degli anni anche la popolazione maschile si è sensibilizzata a effettuare dei controlli periodici finalizzati eventualmente a questo tipo di diagnosi. Quali consigli si possono dare per mantenere in salute la prostata? Valgono tutti i consigli per mantenersi in salute in senso generale, cioè un'alimentazione corretta, equilibrata, il movimento fisico, la correlazione di alcune patologie prostatiche con abitudini voluttuarie dannose come il fumo, non è diretta però comunque, comunque è raccomandabile evitarlo e di base a questo punto il migliore, in un certo senso il migliore atto che si possa fare per mantenere in salute la propria prostata e farla controllare dagli specialisti con, diciamo, con assiduità. Ma a quale età bisogna cominciare a preoccuparsene? No, no, preoccuparsene non è una parola grossa, a occuparsene, a occuparsene, ecco direi che oltre i 50 anni in condizioni di non ereditarietà, nel senso che la patologia tumorale prostatica ha comunque un rischio lievemente incrementato nei soggetti consanguinei di parenti che hanno avuto il tumore della prostata, però direi che a partire dai 50 anni è caldeggiabile una valutazione. È molto controverso il concetto di screening, attenzione, non sto parlando di screening, sto semplicemente raccomandando ai soggetti maschi oltre i 50 anni di, se non mai eseguita prima per altri qualsiasi tipo di problemi, di fare un controllo specialistico urologico. Va bene, grazie dottore. A voi.